Ben ritrovati con la nostra informazione dal Piemonte e dalla Liguria. In primo piano la cronaca e il rinvio a giudizio per la sindaca di Torino Chiara Appendino e per altri 14 indagati nell'inchiesta su quanto accadde in piazza San Carlo la sera del 3 giugno 2017 quando durante la proiezione sul maxischermo della finale di Champions League delle ondate di panico fra la folla provocarono oltre 1500 feriti e la morte della 38enne Erika Pioletti. Il provvedimento è stato chiesto dalla procura di Torino, si procede per i reati di disastro, lesioni e omicidio colposo. L'indagine riguarda le modalità con cui fu organizzato e gestito l'evento di piazza. E restiamo a Torino dove sta facendo molto parlare la notizia della prossima chiusura del negozio di abbigliamento Olympic aperto 81 anni fa dalla famiglia Di Masi, il col figlio Luca è anche presidente dell'Alessandria Calcio. Sentiamo Ketty Porceddu. Sta avendo l'effetto tsunami e la crisi del commercio in Italia dove ogni giorno decine di attività sono costrette a chiudere i battenti. C'è chi lo fa per fallimento, chi per evitarlo, chi per scelta. Sta di fatto che degrado e impoverimento stanno ricoprendo come un manto nero un settore che nel nostro paese ha sempre fatto da traino nell'economia che conta a livello mondiale. Ma quello che fa più notizia sono le chiusure di negozi storici, ormai frammenti di quei pochi punti di riferimento che ci sono rimasti in una società che sta cambiando. Un paio di mesi fa era stata la volta di Boano ad Alessandria, gastronomia e polleria con alle spalle 63 anni di attività, mentre l'ultima notizia bomba è l'annunciata chiusura di Olimpica a Torino, il punto vendita di piazza San Carlo, dove solo a entrarci pareva di ritrovarsi quasi a Buckingham Palace, tanto cortesia, arredi e capi di abbigliamento erano regali. Olimpica dovrebbe abbassare le serrande alla prossima primavera, lasciando a casa 15 dipendenti sconsolati che si chiedono quale sarà il loro futuro. Ma Luca Di Masi, presidente dell'Alessandria Calcio e proprietario del punto vendita, sembra che, dopo la recente scomparsa del padre Francesco, voglia fare altre scelte, sicuramente più redditizie. Ed è così che altri 81 anni di storia andranno ad aggiungersi a chi prima di Olimpica se ne è andato. È il caso del Cavalbrunze, altro mitico bar-pasticceria di piazza San Carlo, dove nelle stagioni calde, sulle sedie rivestite di stoffa blu, si poteva gustare un aperitivo sinuoso o gustare una cioccolata calda con le amiche d'inverno al suo interno in stile barocco o di paissa, sempre nel salotto buono della città, dove invece si potevano trovare tutte le lecornie che nemmeno la nostra fantasia poteva immaginare. Tempi che cambiano, ricordi che se ne vanno. Le amministrazioni locali sembrano impotenti, così come le associazioni commercianti che si sforzano per capire come fare per rilanciare il commercio. Ma nessuno ha la bacchetta magica in questa trista realtà. C'è il rischio che non rimanga più nessuno a prendere la coda nera del cavallo della giostra. Ed ora parliamo di ambiente. In Piemonte migliora la situazione. Ecco cosa è emerso dai dati di ARPA e di Regione relativi all'anno corrente. Chiara Bianchi L'aria è più pulita, l'ozono e il benzene sono in trend positivo e le sostanze inquinanti sono al di sotto dei limiti della legge. Buone notizie arrivano dalla fotografia del Piemonte, effettuata da ARPA e Regione, con una particolare attenzione per i cambiamenti climatici e per le politiche volte alla sostenibilità. I miglioramenti, come afferma Angelo Robotto, direttore generale di ARPA Piemonte, sono il risultato delle politiche ambientali messe in atto, dell'evoluzione dei motori e dei combustibili, ma soprattutto anche di una cresciuta consapevolezza dei cittadini. Ancora molte però le problematiche riscontrate, dalla tropicalizzazione del clima, ai periodi di sticità alternati a forte precipitazioni e a un relativo dissesso dei terreni, all'inquinamento e alla gestione dei rifiuti. Dalle ricerche è infatti emerso che il Piemonte è coinvolto sempre più spesso nelle stesse situazioni. Le ondate di caldo che determinano l'innalzamento dei livelli di ozono si verificano ormai frequentemente, così come le precipitazioni intense associate a devastanti grandinate. La meteorologia influenza in modo significativo le qualità dell'aria e del suolo, andando a colpire tutto il territorio, con effetti che devono essere prevenuti. La Regione ha formalizzato la decisione di avviare la strategia regionale per i cambiamenti climatici. Così ha comunicato Alberto Valmaggia, assessore regionale dell'ambiente. Sarà comunque necessaria la conoscenza da parte di tutti dei problemi ambientali per continuare a migliorare e contribuire ad aiutare l'ecosistema. Resta in vigore a Dovada l'ordinanza emessa ieri dal sindaco Paolo Lantero, che vieta l'utilizzo dell'acqua per scopi alimentari nella zona industriale Coinova, vicino a Molare e nel quartiere adiacente, in particolare nelle vie Granozza, dello Scaglione, Repetto, delle Ghiaie, Mezzano e Comandante Boro. Il provvedimento è stato adottato dopo una nota dell'Asla L che evidenziava la non conformità dei valori riscontrati dalle analisi rispetto ai parametri di legge. La causa è già stata individuata dal gestore della rete idrica, ma l'utilizzo dell'acqua resta vietata in attesa dei risultati di nuove analisi. Altre notizie. Due tedeschi, un uomo di 56 anni ed una donna di 54 in sella ad una moto, una Honda 900, sono rimasti coinvolti in un grave incidente stradale avvenuto stamane lungo l'autostrada A26 nei pressi dello svincolo per la Genova-Milano. L'uomo è gravissimo in ospedale ad Alessandria, la donna ricoverata al nosocomio di Novi Ligure è in codice rosso. Celebrata in tutto il Piemonte la festa della Fondazione del Corpo della Guardia di Finanza, allarmanti i dati diffusi dalle fiamme gialle che riguardano 17 mesi di attività svolta. Ce ne parla Franco Capone. Il 21 giugno il Comando Generale della Guardia di Finanza ha celebrato il 244esimo anniversario della Fondazione del Corpo. La nascita della Guardia di Finanza risale al 1 ottobre del 1774 quando venne costituita la legione Truppe Leggere per volere di Vittorio Amedeo III, re di Sardegna. Fu il primo esempio in Italia di un corpo speciale istituito per il servizio di vigilanza finanziaria ai confini, oltre che per la difesa militare. In Piemonte la ricorrenza è stata celebrata in tutti i capoluoghi di provincia. Ad Alessandria si è svolto in forma riservata nel salone delle conferenze del Comando Provinciale delle Fiamme Gialle situate in Corso Felice Cavallotti V, dove il comandante, il colonel Rosario Amato, dopo aver ringraziato tutti i collaboratori per l'impegno e la disponibilità di Pusa, ha brevemente illustrato gli obiettivi del corpo per il corrente anno, nonché i risultati ottenuti negli ultimi 17 mesi di intenso lavoro. Ma i più davvero impressionanti di tutti sono quelli che riguardano i grandi evasori, le frodi comunitarie, le indagini patrimoniali contro le mafie che hanno interessato quasi tutta la regione e la provincia di Alessandria, tantissime le persone segnalate come responsabili di danni erariali che nella solo provincia alessandrina ammonterebbero ad oltre 60 milioni di euro. Ed infine, nei controlli effettuati dalle Fiamme Gialle in ambito sanitario, per scoprire i cosiddetti furbetti del ticket, il 90% dei casi sono risultati irregolari. In pratica, ogni 10 persone, 9, si sarebbero fatte curare gratis in ospedali pubblici o in altre strutture private convenzionate senza averne diritto. Per quanto riguarda gli aiuti economici e i servizi sociali di assistenza verso i cittadini in condizioni economiche e sociali di disagio, il 39% dei controlli ha evidenziato forti irregolarità. Rivoluzione nella diocesi acquese per ovviare alla carenza di sacerdoti. Il neovescovo Monsignor Luigi Testore ha dato il via alle unità pastorali. Sentiamo di cosa si tratta nel servizio curato da Fabrizio Mattana. Si chiamano unità pastorali. Sono vere e proprie parrocchie allargate, gestite da un parroco residente con l'ausilio di altri sacerdoti. Una soluzione per ovviare alla carenza di vocazioni, che si fa sempre più incisiva. Nella diocesi di Aquiterme, il neovescovo Monsignor Luigi Testore ha presentato un nuovo percorso al termine dell'anno pastorale e nel corso dell'ultimo consiglio diocesano. L'obiettivo si concilia con quello di estendere il concetto di chiesa, evitando di alimentare campanilismi che a volte significano chiusura. Un modo per sposare anche il pensiero di Papa Francesco, rivolto all'apertura. Aprire le porte a Cristo significa anche accoglierlo in comunità sempre più vaste, nelle quali anche il laicato, diaconi e religiosi rivestono un ruolo di primaria importanza. Occorre investire di più sulla formazione dei laici, che saranno sempre più collaboratori fondamentali del sacerdote, chiamato a sua volta ad essere sempre meno manager e più pastore. Le unità pastorali in diocesi di Acqui terranno conto delle caratteristiche non solo geografiche, ma anche sociali e culturali del territorio e saranno dalle 30 alle 35, un lavoro che necessiterà probabilmente di un tempo di sperimentazione, ma questa soluzione sembra la più adeguata per dare nuova vitalità alla diffusione del Vangelo, soprattutto fra i giovani. Durante l'estate si avrà modo di valutare ancora più attentamente il nuovo percorso, partendo anche da una lettera pastorale che il Vescovo sta preparando come guida per i protagonisti del nuovo corso. Intanto sono già stati annunciati alcuni spostamenti di grande rilievo di parroci. Don Giorgio Santi, dopo 25 anni, lascerà a Ovada e si trasferirà ad Acqui, sostituito da Don Maurizio Benzi, attuale parroco di Masone. Monsignor Paulino Sivi lascerà la cattedrale per occuparsi della parrocchia di Nizza. Terra Madre, Salone del Gusto, si terrà a settembre all'ingotto di Torino. È questa una specie di ritorno alla base dopo le edizioni in varie zone del capoluogo di regione. Ieri c'è stata la presentazione nella sede della Fondazione Casa di Risparmio di Alessandria. Le fondazioni del Piemonte sono promotrici dell'evento organizzato da Slow Food. De De Vinci. Ha fatto tappa ad Alessandria il tour di presentazione di Terra Madre, Salone del Gusto 2018, che è organizzato da Slow Food, l'associazione delle fondazioni di origine bancaria del Piemonte e dalla stampa. L'appuntamento è per settembre dal 20 al 24 a Torino. Questa edizione segna il ritorno all'ingotto, anche se il presidente della Fondazione Casa di Risparmio di Alessandria, Pierangelo Taverna, durante la presentazione ha provato a proporre anche la cittadella, contenitore perfetto che, essendo collocato ad Alessandria, ovviamente si trova a 80 km da Milano, Torino e Genova. A presentare questa edizione di Terra Madre, Salone del Gusto 2018 c'era Roberto Burdese del comitato esecutivo dell'associazione Slow Food e poi ancora Francesca Baldereschi, responsabile del progetto Presidi di Slow Food, Cristina Sorice di Tour di Vini per tutto il Piemonte e ancora Dalia Ghisu, responsabile della condotta di Alessandria, che porterà a Terra Madre il salamino di Mandronie e il cavolo San Giovanni di Casal Cermelli. Stiamo girando tutto il Piemonte perché ovviamente vogliamo che prima di tutto siano i piemontesi a animare la manifestazione, non perché ci serva a fare massa di numeri, ma perché siamo convinti che questa nostra regione già oggi sia uno dei luoghi più importanti al mondo dove non solo si fa agricoltura e produzione alimentare di qualità, ma si pensa davvero al futuro del cibo. Oggi siamo qua a raccontare un po' cosa ci sarà al Salone e anche far capire come mai un progetto come i Presidi fa parte ormai della famiglia di Terra Madre, Salone del Gusto. Avremo oltre 300 Presidi presenti poi all'evento che ci mostrano un po' la biodiversità e oggi sono qua per parlare di cos'è la biodiversità e perché dobbiamo tenerne di conto e averne cura. Carlin Petrini ha stimolato proprio l'uguaglianza tra i saperi accademici e i saperi territoriali delle persone che lavorano e che vivono il territorio. Diamo molta importanza alla rete di Slow Food, quindi la collaborazione delle quattro condotte che vorrei citare, oltre a quella di Alessandria, nella provincia c'è la condotta del Tortonese, quella del Gavi e del Casalese Moncalvo, con cui ci confrontiamo, con cui portiamo avanti dei progetti e delle iniziative che hanno sempre un unico denominatore comune che è quello della valorizzazione del nostro territorio. Ed ora la creatività dei giovani alessandrini al servizio del Parco Pittaluga. Idee creative, idee giovani, idee che si trasformano e che prendono casa al Parco Comunale Pittaluga di Alessandria. Si concluderà martedì 26 giugno alle 11 al centro giovani di questo spazio verde cittadino il percorso dei progetti Ideali Tu e Regeneration, finanziati dalla Compagnia di San Paolo, in partenariato con l'Associazione Cultura e Sviluppo e dalla Regione Piemonte, con la premiazione dei vincitori. I bandi hanno dato la possibilità ai giovani di trasformare appunto i loro pensieri talentuosi in attività tangibili, ponendosi come obiettivo la riqualificazione urbana di uno spazio storico della città d'Alessandria, i giardini Pittaluga, con la ristrutturazione di un edificio collocato al loro interno. Parte dello stabile sarà destinato ai giovani che potranno autogestirsi in autonomia, offrendo la possibilità di condividere uno spazio di aggregazione e lasciando ai ragazzi la libertà di prevederne il tipo di destinazione d'uso, la tipologia d'arredamento e le attività da proporre. In occasione della giornata sarà allestita all'interno dei rinnovati locali una mostra fotografica dedicata all'ex complesso conventuale di San Francesco, nell'ambito del progetto Leone X, a cura dell'Istituto Saluzzo Plana. Con il nuovo anno scolastico si avrà l'apertura ufficiale del centro giovani ai giardini Pittaluga con l'avvio dei progetti che devono essere concretizzati entro dicembre 2018. Tutta la cittadinanza beneficerà di uno spazio urbano ritrovato, ha affermato l'assessore alle politiche giovanili, Kerim Afteita, sottratto ad una dimensione di abbandono che tornerà a vivere e ad animarsi. A Magambiente sosterrà economicamente i primi eventi che saranno organizzati dai ragazzi in un'ottica di servizio alla comunità. Siamo alla pagina sportiva, tempo di bilanci e di progetti per la nuova stagione per le squadre di pallavolo della provincia di Alessandria. Ce ne parlerà tra poco Fabrizio Mattana nella pagina sportiva, subito dopo le previsioni del tempo e la consueta rubrica delle notizie utili. Grazie per averci seguito, arrivederci alle prossime edizioni.